E' proprio vero. I comitati presenti nel nostro paese. Una storia che vede l'organizzazione Rosso Crociata impegnata a prestare assistenza in Italia e nel mondo. I terremoti da quello del 1908 in Sicilia e Calabria, passando per l'Aquila fino all'Emilia Romagna. Quindi i fatti internazionali più recenti, come nel caso di Haiti e della Siria. Ottanta pannelli divisi in sezioni raccontano un percorso impregnato di umanità. L'iniziativa celebra la Croce Rossa italiana, il movimento internazionale della Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa. Il Roma per noi è sempre stato un punto di riferimento. A Roma esiste uno dei comitati più antichi della Croce Rossa italiana. Qui abbiamo voluto celebrarlo ricordando l'apertura storica del Quirinale durante la Prima Guerra Mondiale in cui fu trasformato in ospedale da campo. Ecco, questa vicinanza è il segno proprio di un rapporto forte che c'è tra la Croce Rossa italiana e la sua comunità nazionale. L'evento, promosso dall'assessorato alla cultura di Roma Capitale, è patrocinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Previsto anche un concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie che dovranno realizzare un video sul tema dei cambiamenti climatici e i disastri umanitari che ne conseguono. L'esposizione resterà aperta al Museo di Roma in Trastevere fino all'11 maggio.